Allora, l'appuntamento è qua, siamo al Miami, via Filippo Burzio 8, Torino. Locale nuovo, perché per Torino, penso, cioè, a Torino penso non ce ne siano molti di così rinnovati, comunque, insomma, è un ambiente glamour dentro e la gente che si trova altrettanto, quindi cosa chiedere di più? Grazie a tutti.